Ci sono buone notizie per quanto riguarda il fronte del Covid. Il bollettino settimanale, infatti, indica un netto calo per i nuovi casi, con conseguente diminuzione delle ospedalizzazioni. Nella settimana dal 16 al 22 gennaio si è registrato in Sicilia un netto calo delle nuove infezioni da Covid-19, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. Si segnala una diminuzione del 46,55% dei casi positivi rispetto alla settimana precedente, con un'incidenza di 84 casi ogni 100.000 abitanti. Le province con la media regionale più alta sono state Agrigento, Siracusa e Ragusa, mentre le fasce d'età maggiormente a rischio risultano sempre quelle tra i 69 e gli 89 anni. I dati sono stati pubblicati nell'ultimo bollettino settimanale a cura dell'assessorato della salute della regione siciliana. In base a quanto riportato nel documento, le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione e più della metà dei pazienti positivi in ospedale è risultata non vaccinata. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Sicilia, i dati aggiornati al 24 gennaio ci dicono che i bambini con ciclo primario completato sono il 20,12%. Nella fascia over 12 i vaccinati con almeno una dose sono il 90,95%, mentre l'89,58% ha completato il ciclo primario. Sono ancora circa un milione cittadini che, pur avendone diritto, non hanno effettuato la terza dose. Inoltre, i vaccinati con dose booster sono del 72,39%. Complessivamente in Sicilia sono state effettuate 236.313 somministrazioni di quarta dose, di cui 208.284 a persone sopra i 60 anni. Le quinte dosi, invece, sono state 8.267.